Foggi Mordegu Le due aree che proponiamo in vendita a clienti ed investitori sono edificabili mediante intervento diretto e si trovano a 300 metri dalla spiaggia di Foggi Mordegu, nel comune di Tertenia, nella provincia d'Ogliastra. La location è facilmente raggiungibile da porti e aeroporti di tutta la Sardegna. Le due zone proposte si inseriscono in un contesto paesaggistico naturale di grande bellezza ed esclusività, consentendo e garantendo ai residenti uno stile di vita eccellente e dai turisti una permanenza tranquilla. La zona dispone di una spiaggia esclusiva, offrendo la possibilità di fare gite in barca, escursioni a piedi ed in bicicletta, arrampicate, passeggiate a cavallo, parapendio, vela, nuoto, kitesurf ed in generale tutte le attività connesse con la balneazione. In questo contesto, per chi acquista le aree secondo i progetti attuali, è possibile la realizzazione di una parte residenziale su una superficie di 13.780 metri quadri, costituita da 45 ville esclusive, realizzate secondo i progetti approvati e che rispecchiano la tipologia costruttiva tipica del luogo. Un'altra parte, invece, è destinata a un complesso turistico alberghiero o residence, suddivisa in otto blocchi su una superficie di 64.288 metri quadri, con capacità ricettiva di circa 280 posti letto. Nella fascia di 300 metri che intercorre tra il compendio immobiliare e la spiaggia, è possibile la realizzazione di servizi correlati con le attività di balneazione. Esiste inoltre la possibilità di convertire ed accorpare la parte residenziale nel complesso turistico alberghiero. Nelle vicinanze è di prossima realizzazione anche il porto turistico di zona, in località Foggi Manna, distante in linea d'aria circa 4 chilometri, che consentirà un ulteriore sviluppo economico della zona. Vi aspettiamo a Foggi Murdegu. Foggi Murdegu